salve a tutti amici e amiche spero siate sopravvissuti ad un ferragosto infernale dalle prossime ore almeno nel weekend i temporali che stanno interessando il nord italia dovrebbero spostarsi al sud e si prevedono quattro giorni di calo delle temperature speriamo chiusa la parentesi bernacca passiamo agli aggiornamenti ho raccolto un poco di notizie e video per voi quindi mettetevi comodi prima di iniziare come sempre per quelli che non lo hanno ancora fatto vi invito a iscrivervi al canale ea lasciare un mi piace qui sotto al video trovate tutte le funzioni e i pulsanti di youtube per sostenermi il vostro supporto è fondamentale per permettermi di continuare con questa iniziativa iniziamo con gli aggiornamenti sulla mappa e con il dire che gli ucraini non sono ancora stati fermati nella loro avanzata nella regione di kursk ma in più parti di questo nuovo fronte ci sono stati scontri nella città di corenovo dove gli ucraini cercano di raggiungere il fiume che rappresenta una barriera naturale per stabilire una linea di difesa come possiamo vedere da parte russa ci sono stati due attacchi aerei e di un drone fpv poco più a nord violenti combattimenti due giorni fa 14 agosto hanno portato a perdite da entrambe le parti con l'avanguardia di tre scout ucraini che è stata colpita con i loro tre mezzi m rapi e m rapi distrutti che sono i blindati a quattro ruote e btr distrutti da parte russa sempre il classico sei ruote con blindato che trasporta truppe poi sono segnalati anche diversi attacchi dronici da parte ucraina anche questi documentati non vi posso mostrare le immagini perché sono troppo crude scorrendo al centro di questo settore vediamo sempre a 14 agosto attacchi di artiglieria e uno scontro fra bmp di entrambe le parti nel settore più est di questa avanzata in direzione della regione di belgorod presso il villaggio di camisone e ghiri le icone parlano di scontri serrati attacchi di artiglieria e di una situazione in continua evoluzione tutti questi eventi insomma di cui vi ho parlato sulla mappa hanno le loro foto e i video di riferimento geolocalizzati e sono datati al 14 agosto quindi dobbiamo immaginare che la situazione ad oggi probabilmente è cambiata ed è molto diversa da quella rappresentata da segnalare poi i rapporti continui con foto e video di soldati russi che si arrendono a volte in numeri impressionanti altre volte sono piccole unità la maggior parte di queste unità sono coscritti che non hanno nessuna voglia di combattere fra l'altro oggi vi porterò anche l'intervista di uno di questi soldati anche poco più a sud finalmente vediamo un aggiornamento per la regione di belgorod con carri armati russi distrutti artiglieria ucraina e ricognizioni droniche quindi c'è qualcosa sta accadendo in questa regione se scorriamo poi la mappa e ci spostiamo invece decisamente più a sud vediamo che l'azione di invasione russa resta sempre la stessa nella regione del donesk ed è anche quella con maggiore intensità ed è l'unico settore in cui i russi stanno ottenendo dei risultati ma le immagini e i video che arrivano da queste aree sono anche quelle più cruente che non vi posso mostrare ma il copione è sempre quello ci sono mezzi russi che avanzano nei campi finiscono sopra le mine vengono colpiti dall'artiglieria insomma quest'area è letteralmente il famoso tritacarne di cui ormai parlano tutti quanti da mesi poi ultima segnalazione i russi sono riusciti anche a prendere alcuni quartieri della zona nord est di new york e questa è la situazione adesso passiamo ai comunicati ufficiali stampa e le televisioni faccio una premessa intanto chiedo scusa se ogni tanto faccio errori di pronuncia delle città russe posso parlare in inglese capisco un poco il giapponese ma il russo proprio no poi per registrare 20 40 minuti di audio per fare il video in tempo reale comporta sempre dei lapsus ogni tanto quindi non mi metto a rieditare il video se ogni tanto faccio qualche errore insomma è un po quasi buona la prima perché cerco di ottimizzare i tempi a questo proposito cito per esempio questo commento di un certo davide che scrive non sapere dire la parola war che in quel caso l'avevo pronunciata leggendo la war vabbè è stato un errore puerile e parlare di bayraktar anch'esso pronunciato in modo assurdo come se fosse una cosa mai sentita mi chiedo che analisi militare valida si possa fare allebito che dire mi spiace di averti deluso davide per l'inglese è stato un lapsus if you think that my english is so bad cos'ai mi speech something i don't care just don't watch my video it's very simple per il resto se la tua critica sulla mia preparazione tecnica si basa solo su questo va bene capito ognuno è libero di pensare quello che vuole non credo che conoscere il turco o il russo faccia la differenza in questi casi comunque poi lo ridico per l'ennesima volta per tutti quanti io non sono un analista militare non ho mai detto di esserlo io sono un semplice studioso e quindi fra l'altro lo ripeto non mi metto a rieditare tutto un video da capo perché ho fatto un errore di lettura comunque mi rendo conto che tante persone ignorano quanto tempo ci vuole quanto lavoro serve per pubblicare un video ormai ci sono abituato è tipo la storia della mia vita degli ultimi 15 anni a questa parte quindi vai tranquillo e ti auguro buona fortuna e di trovare quello che stai cercando comunque per concludere la premessa per citare altri commenti dato che ci sono stati dei lagnoni che mi hanno scritto e ma fai vedere solo le fonti ucraine e ma parli solo delle vittime russe e ma sei atlantista ma chi ti paga oggi farò proprio così e vi presenterò la mia versione del bipolarismo o par condicio quindi avremo un articolo e un video di fonte ucraina e occidentale quello che è è un articolo di fonte russa così spero che questo aiuterà anche a capire le differenze e certe dinamiche dei media che seguono il conflitto iniziamo quindi con gli aggiornamenti e i comunicati ufficiali per esempio da nexta tv che segue molto spesso le fonti ucraine in cui si dice che 82 insediamenti oggi 16 agosto ieri 15 erano 74 82 insediamenti nella regione di kursk sono sotto il controllo delle forze ucraine dall'inizio dell'offensiva la fu la fu acronimo che significa le forze armate dell'ucraina sono distribuite su una porzione di territorio di 1150 chilometri quadrati e sono avanzati di 35 chilometri in profondità report del comandante in capo delle forze armate ucraine sirski ieri fatto fra l'altro a proprio al presidente ucraino zeleschi c'è anche la comunicazione via video una sorta di videochiamata proprio del breve rapporto che c'è stato fra i due ora diamo spazio invece alla voce del cremlino cosa dice la televisione russa a proposito di questo che bisogna dire in questi giorni è letteralmente scatenata quindi con la con questa tv russa e il suo reporter fra l'altro non sarà l'unico reporter russo che vedremo oggi dice ho visto il comunicato di zeleschi ha detto che hanno catturato 74 insediamenti ieri ok ho ascoltato il suo discorso attentamente ho sentito anche il discorso del rappresentante degli affari esteri dell'ucraina in cui ha detto che gli ucraini non hanno bisogno di questa terra della regione di kursk intende non hanno bisogno di terra extra quello che stanno dicendo è che vogliono creare una zona cuscinetto in russia quindi quello che voglio dire prima di tutto è che è una bugia sui 74 insediamenti le persone capisco vogliono vogliono sapere quanti villaggi sono stati catturati e io vi dirò che il numero non importa giusto ieri alcuni blogger di cui non possiamo vedere le pubblicazioni in russia hanno parlato di certi villaggi che sono passati di mano cinque volte è stato scritto nelle loro pagine che sono passati nelle loro mani e poi ricatturati dal nemico eccetera eccetera no amici la realtà non è questa quel territorio è sfortunatamente diventato quello che chiamiamo una zona grigia questo non significa assolutamente niente per noi in termini di quanto possiamo dire per quegli insediamenti mi scuso dice controllato da noi stiamo parlando di qualcos'altro io penso sia necessario cambiare prospettiva che questi insediamenti siano controllati da noi o meno non è l'argomento di cui dovremo discutere quindi questo è diciamo la traduzione di quello che ha detto quindi se voi ci avete capito qualcosa fatemelo sapere ma il commento dell'autore di questo articolo che ha catturato questo spezzone della tv russa è interessante dice infatti che i villaggi siano nostri o meno non è l'argomento di cui dovremo discutere tipo non è la prima regola della guerra che si svolge sul suolo russo parlare proprio del territorio conquistato dal nemico ma come vi ho anticipato oggi faremo un po è un po daremo la voce a entrambe le parti le conferme che le forze ucraine tra l'altro si trovano in certi insediamenti avvengono proprio grazie alle foto dei cittadini russi che li riprendono con i cellulari dalle finestre e poi le persone comuni tipo su telegram su x su youtube prendono quelle foto e fanno un lavoro di ricostruzione usando google maps quindi geolocalizzazione e quindi poi le mappe vengono aggiornate così cioè se si segnalano dei soldati che camminano tranquillamente in un villaggio russo è chiaro che lì ci sono dei soldati ucraini c'è poco da dire no quindi è per questo motivo succede di frequente in questa guerra che le notizie arrivino in questo modo molto prima di quanto ne parlano i telegiornali per esempio in italia dove si prendono per esempio spesso le veline ufficiali del cremlino o di kiev come fonti attendibili ma l'altro ieri fra l'altro qualcosa è successo di molto particolare e lo vedremo così in queste foto per esempio possiamo vedere soldati ucraini camminare in questi villaggi la mappa poi che vi mostro riporta tutti i video e le foto e le immagini satellitari e le mette insieme ricostruendo gli eventi quindi se il comandante in capo delle forze armate ucraine parla di mille e quasi 1200 chilometri occupati e 82 villaggi si può verificare magari non oggi ma fra due giorni ci saranno ulteriori conferme e si va avanti così la risposta russa comunque è surreale ed è comprensibile si trovano in emergenza hanno bisogno di intervenire ma sono talmente abituati a fare questo tipo di narrazione che spesso si contraddicono da soli in questo post per esempio chris chris wiki ha messo insieme le brochure di reclutamenti di operai scava trincee per il fronte di kursk questa locandina insomma mostra che i rusi stanno reclutando operai per scavare le trincee facendo un calcolo in media un mese di lavoro 30 giorni di questo tipo al fronte sotto i bombardamenti sono 1500 euro due mesi di lavoro 3800 euro se riesci a sopravvivere tutto quel tempo insomma scavare può essere remunerativo e poi andando avanti sempre per dare voce alla televisione russa è arrivata anche la prima dichiarazione televisiva di belusov finalmente il tizio ha parlato dopo dieci giorni il ministro della difesa la più alta carica dello stato è dopo putin ha finalmente parlato devo fare una piccola premessa è perché ne ho già parlato in altri video ma quest'uomo dobbiamo ricordare è un contabile letteralmente è un tecnico bancario per la precisione la poltrona di ministro della difesa gli è stata data veramente da poco credo meno di un mese fa un mese fa e quindi quello che dice tutte le volte quando incontra i subordinati che sono tutti generali gente che in teoria dovrebbe avere esperienza militare è mi raccomando lavorate bene non rubate fate arrivare le munizioni in tempo controllerò di persona insomma dice sempre queste parole questo video è interessante e lo commenteremo e vi invito come sempre a leggere i linguaggi del corpo e le espressioni delle persone sedute al tavolo quindi dice intanto cito il post che lo presenta il ministro della difesa russo belusov ha affermato che lo stato maggiore ha preparato un piano di azioni specifiche per garantire la sicurezza nelle regioni di confine tutti fra l'altro in questo video sembrano molto importanti e fra l'altro fingono perfino di scrivere un po' come nei simpson quando il poliziotto scrive comunque belusov dice oggi terremo un'altra riunione su come assicurare l'integrità territoriale proteggere la popolazione e le infrastrutture dei confini della federazione russa oggi ci concentreremo sulla regione di belgorod è pianificato di sentire un piano di azioni concrete che è stato preparato dallo staff come misure addizionali in primo luogo c'è la questione di migliorare l'efficienza del comando delle truppe in cooperazione con le altre forze di sicurezza e l'amministrazione della regione di belgorod assegnando ufficiali responsabili dislocando forze addizionali che verranno mandati per svolgere i loro compiti io provvederò personalmente alla supervisione che questo piano venga implementato mettiamoci al lavoro ok bene ma non benissimo come si dice le espressioni dei generali al tavolo ve le faccio vedere sono piuttosto eloquenti quello che posso pensare io è che c'è un clima parecchio teso insomma e i pensieri che corrono nelle menti di questi generali sono anche gli si leggono in faccia ma andiamo avanti parliamo della rai radio televisione italiana e che sapete critico però come critico tutti gli organi di stampa italiani però ogni tanto ne fa una buona l'ho detto quindi segnatevi questa data nel video precedente se vi ricordate vi avevo mostrato la prima giornalista ucraina a fare un servizio presso su già la prima città conquistata dagli ucraini nella regione di kursk due giorni fa la rai è arrivata a su già con i giornalisti stefania battistini e simone traiani per un reportage i due sono andati in giro per le strade intervistando la popolazione e documentando nel video come la città è rimasta praticamente intatta e che gli ucraini stanno portando aiuti umanitari per questo reportage il ministero degli interni russi ha denunciato la cosa dicendo che hanno attraversato illegalmente il confine di stato rispetto insomma due giornalisti l'articolo dice due giornalisti del tg1 rischiano un procedimento penale per aver attraversato illegalmente il confine dello stato russo secondo baza canale telegram russo anche qui torniamo a parlare della russia dei notiziari russi il ministero dell'interno russo intende aprire un procedimento penale contro i due giornalisti italiani si tratterebbe di un procedimento penale ai sensi dell'articolo 322 del codice penale della federazione russa sull'attraversamento illegale nel confine dello stato si commenta da solo voglio dire no i giornalisti vengono denunciati per attraversamento illegale quando c'è la russia che da due anni e mezzo sta invadendo una nazione ok vabbè non dico altro però insomma il diritto di informazione viene prima di tutto è un po pecca di ipocrisia questa denuncia comunque il reportage di stefania battistini e simone traiani bisogna dirlo che forse in italia non ha avuto un grande impatto mediatico perché sappiamo che queste questo conflitto non viene eseguito con particolare attenzione ma vi posso garantire invece che il servizio italiano è rimbalzato letteralmente ovunque nel mondo è stato preso e ripreso sui canali più importanti su telegram su youtube su tanti altri giornali come una fonte molto preziosa per documentare quello che sta accadendo quindi complimenti per questo lavoro finalmente un giornalista sul campo abbiamo letteralmente un giornalista al fronte lascio scorrere le immagini che hanno proprio bisogno non hanno bisogno scusate di essere tradotte questo silenzio l'abbiamo sentito soltanto nelle città ucraine signora sono dei civili perché siete rimasti i russi ci hanno detto di stare qui raccolti e poi se ne sono andati lasciati soli come si comportano i soldati ucraini molto gentili la vedi la differenza tra noi e i russi qui le case delle persone non sono distrutte questa è la città russa di sugger ed è sotto il controllo delle forze ucraine questo silenzio l'abbiamo sentito soltanto nelle città ucraine signora ci sono dei civili la perché siete rimasti i russi ci hanno detto di stare qui raccolti e poi se ne sono andati lasciati soli come si comportano i soldati ucraini molto gentili quindi ottimo lavoro dicevo fra l'altro questo reportage conferma anche quello che ha fatto la giornalista ucraina tre giorni fa recandosi a sugia per chi insomma vuole dire che no le fonti ucraine non sono attendibili adesso abbiamo anche un reportage della rai però abbiamo anche dei giornalisti russi che cercano di fare dei reportage nella regione insomma anche i reporter russi vogliono cercare di documentare in diretta quello che sta accadendo quindi oggi ricordo ho promesso di fare un po un po dare la voce a tutti un reporter z che si era recato nella città di il gov non so come si pronunci proprio nella regione di kursk avrebbe voluto fare un servizio altrettanto valido per la televisione russa peccato che mentre stavano girando è piovuta una fab 500 russa e accentrato uno spazio fra le case nelle vicinanze mantando nel panico la troupe che ha iniziato una fuga roccambolesca poi fra l'altro andando a vedere sul posto il reporter ha detto che sia trattato dell'artiglieria ucraina ma in realtà l'artiglieria non fa un cratere così il cratere ovviamente quello di una bomba fab andiamo avanti con un'altra chicca della televisione russa mardan tv nazionale ancora questa penso sia una delle cose più assurde che io abbia mai visto cito quello che ha detto questo giornalista fra virgolette fra 50 anni le città europee cesseranno di essere obiettivi per i missili nucleari russi perché lì non ci sarà più nulla la stessa germania o la stessa francia potrebbero molto probabilmente trasformarsi in qualcosa di simile a quello che diciamo è riga oggi un deserto senza alcuna possibilità di rinascita ok quello che ha detto questo giornalista secondo la narrazione russa è che l'europa è una distesa deserta cioè è rimasta praticamente come era nel 1945 dopo i bombardamenti alleati questa è la rappresentazione che la tv nazionale russa fa della città di riga che appunto nel 45 era stata bombardata ed era ridotta in macerie quindi insomma i russi si immaginano l'europa come una distesa di macerie come era berlino dresda e tutte le altre tipo anche roma milano furono bombardate ed era l'italia era messa male allo stesso modo quindi tutte le stesse di macerie giustamente i commenti sono stati bellissimi a questo intervento nella televisione di stato russa voglio dire cito giusto il primo che dice diamo un'occhiata al deserto oggi questa è riga oppure quest'altro che dice è vero è quello che dice questa è la vista dalla mia finestra in questo momento niente da vedere statevene a casa russi insomma continuando con questa carrellata di televisione russa vi mostro fra l'altro molto interessante due versioni dello stesso video ok questo è veramente un caso antropologico lo possiamo studiare in tanti modi perché lo stesso video è stato trattato da fonte ucraina e lo stesso video è stato trasmesso da fonte russa però è un po come il giochino della settimana enigmistica trovate voi le differenze vi passo il primo video è un video del comandante ucraino del battaglione akhmat presso martinovka che parla della liberazione della città e questo è il video da parte russa ok adesso vi mostro quello da parte ucraina ok trovato le differenze uno potrebbe chiedersi no giustamente quale dei due è l'originale quale dei due è vero allora la risposta se dovessi rispondere io che ho lavorato per anni nelle produzioni video per me la risposta è molto semplice perché il video trasmesso dalla televisione russa è stato artefatto innanzitutto c'è un effetto che si chiama tipo pellicola invecchiata per dirle in modo semplice poi si vede appunto oltre al suono dell'esplosione le scintille che si vedono dopo sono tipiche di un effetto predefinito di invato tipo che l'abbiano preso da lì che per chi non lo conosce è una piattaforma dove si possono scaricare effetti pirotecnici e usarli nei video cioè fra l'altro per esempio molte delle sigle dei telegiornali spesso vengono prese così che hanno dei dei preset che vengono utilizzati e questo è un effetto speciale montato in maniera amatoriale perché si vede che artefatto insomma fra l'altro non sono stati neanche abbastanza furbi da aspettare che il comandante finisse di parlare perché l'hanno interrotto a metà quindi nel video originale c'è l'altra metà del discorso quindi è ovvio che il video con l'esplosione è finto perché altrimenti come farebbe a finire tutto il discorso che fa insomma nel video originale il comandante sembra piuttosto felice vivo e veggito felice di trovarsi lì poi ecco ve l'avevo accennato all'inizio in questa intervista c'è un soldato russo che è stato fatto prigioniero non è un soldato qualunque è un caso particolare perché non è il solito ragazzino a cui siamo abituati di 18 20 anni mentre è un uomo adulto piuttosto emaciato racconta di essere stato prelevato dal carcere insieme ad altri prigionieri e gli è stato chiesto se voleva offrirsi volontario e lui ha accettato racconta perché mi hanno chiesto di fare solo una cosa dice di sparare al nemico gli hanno chiesto non usa questo termine però si capisce insomma racconta che insieme a lui c'era un ragazzo più giovane sempre un carcerato che ha rifiutato di arruolarsi ed è stato giustiziato sul posto vi passo il link in descrizione perché è un'intervista così particolare che vale la pena guardarsela e il suo racconto è piuttosto crudo e anche desolante tra l'altro soprattutto si percepisce lo stato mentale di quest'uomo completamente privo di empatia in cui è stato mandato al fronte senza nessuna alternativa fondamentalmente o gli sparavano alle spalle o gli sparavano frontalmente quindi almeno detto se devo fare una fine di questo tipo tanto vale che sparo anch'io nella direzione in cui vado avanti ok allora poi mandiamo andiamo avanti vi mostro queste immagini vediamo dei coscritti in ucraina perché i filorussi mi hanno scritto nei commenti e ma anche gli ucraini hanno i coscritti che costringono i ragazzi a combattere contro la loro volontà che tipo e zeleschi il dittatore che manda la gente a combattere quando non vuole a questo punto ho detto va bene prendiamo un video di soldati ucraini che dimostri questo infatti in queste immagini possiamo vedere ragazzi di 18 anni mandati a combattere con la forza e proprio dalle loro espressioni si vede che sono giovani e gli atteggiamenti si vede che sono tipici delle persone che combattono contro voglia si vede voglio dire lascio parlare le immagini e anche il cibo fra l'altro dobbiamo dire che non tutti gli aiuti che arrivano all'ucraina da parte dell'europa sono particolarmente apprezzati per esempio la svezia ha pensato bene di inviare alle truppe ucraine il famoso su stromming che io non avevo idea di cosa fosse ma per dirla in parola povere sono delle aringhe in scatola che continuano a fermentare e fermentano così tanto che la scatola inizia a gonfiarsi in questo video possiamo vedere quanto i soldati ucraini apprezzano questa prelibatezza svedese davvero uno spasso sembra vabbè allora per concludere il video invece due notizie un po più serie decisamente più serie scusate passiamo a un paio di notizie di aviazione intanto allora ed ieri un video o più video che stanno circolando a proposito di un tupolev 22 un bombardiere russo precipitato nella regione di kursk credo che si pronunci così che è veramente tanto lontano dal fronte praticamente dato dall'altra parte del globo quasi per quanto è grande la russia dalle immagini si capisce che l'aereo precipita con un motore in fiamme e poi esplode al suolo questi aeroplani sono delicati hanno sempre avuto problemi questo incidente ma anche altri che sono avvenuti in questi giorni che parlano di avarie fondamentalmente sono l'ennesima prova che queste macchine e l'aviazione ucraina è portata al limite al limite dei loro cicli operativi quindi non si capisce che cosa ci facesse lì questo tupolev magari è stato rimesso in sesto per mandarlo al fronte e dopo il decollo ha avuto un problema però queste sono speculazioni non so dirvi se l'equipaggio è riuscito a salvarsi o meno dobbiamo considerare che la russia non ha solo le basi vicino all'ucraina a basi ovunque vicino in tutta la siberia e a confini con la cina con l'india con con giappone con con l'america quindi chiaro che in questi giorni starà cercando di spostare lo spostabile o recuperare irrecuperabile la mia idea è questa mentre tra l'altro anche anzi questa questa notizia è anche altrettanto importante l'avevo già ad occhiata alcuni giorni fa volevo riportarla a quanto pare c'è un movimento di piloti statunitensi della riserva piloti di f16 ritirati che si stanno proponendo per combattere in ucraina in questo video il colonnello dan hampton fa una richiesta dice c'è un folto gruppo di piloti di f16 in pensione che come me nel mondo sono pronti a venire in aiuto dell'ucraina è un discorso molto interessante per tre motivi molto importanti primo l'ucraina è a corto di piloti e più precisamente di piloti addestrati sull'f16 argomento che fra l'altro abbiamo già trattato ampiamente nei miei video precedenti due al mondo esistono una marea di f16 che potenzialmente potrebbero essere ceduti all'ucraina quindi non solo gli 80 che gli sono stati promessi fino adesso quindi se ci sono tanti piloti disposti a volarli ci sono anche altrettanti aeroplani che possono essere dati all'ucraina terzo motivo far volare volontari per difendere lo spazio aereo ucraino non sarebbe nella prima nell'ultima volta che accade la storia della guerra aerea è costellata di eventi di questo tipo di volontari che sono venuti da altre nazioni per combattere e questo è successo già dalla prima guerra mondiale e anche dopo gli stessi russi fra l'altro non si fecero mai scrupoli a intervenire con i loro piloti contro gli Stati Uniti in Corea, Vietnam o anche nelle guerre di Israele i piloti di MiG-21 coadiuvati dai GCI russi dai loro controllori di volo e così anche in Angola nei famosi scontri fra MiG-23 e Mirage F1 insomma ho citato solo alcune alcuni di questi episodi ma è pieno quindi detto francamente la Russia potrebbe protestare moltissimo se i piloti americani o europei volassero sui cieli dell'Ucraina ma allo stesso tempo dovrebbe stare zitta e mangiare la foglia perché no è stata la prima a comportarsi in questo modo e questo potrebbe aiutare moltissimo a proteggere il suolo ucraino dagli attacchi aerei e missilistici russi quindi mi auguro che questa proposta diventi in realtà il prima possibile per concludere il video di oggi sempre sulla falsariga dei commenti filorussi che mi hanno chiesto anzi mi hanno detto o contestato di parlare sempre e solo delle perdite russe e dei russi oggi parlo di due soldati ucraini il primo è il capitano Aleksandr Miulchia credo si pronunci così della 40 aerobrigata tattica ucraina pilota di MiG-29 con oltre 160 voli di combattimento dall'inizio dell'invasione ha effettuato numerosi attacchi missilistici e con bombe contro le posizioni il personale e gli equipaggiamenti dell'aggressore impedendo così alle forze nemiche di avanzare nel territorio di un paese pacifico si legge nella nota è stato ucciso in azione il 12 agosto nelle operazioni della regione di Kursk la seconda invece è Aleksandra Mulkevich Alex, nickname Mike medico di combattimento aveva rilasciato questa intervista pochi giorni fa ve la faccio vedere dice salve sono Mike sono un medico di combattimento dell'ospedale del battaglione e sto lavorando da oltre un anno con i ragazzi il mio compito qui è di aiutare il personale medico per tenere al sicuro ed effettuare procedure mediche anche sulle persone ferite che arrivano dal fronte abbiamo il compito di evacuarle in sicurezza verso gli ospedali l'articolo dice è stato uccisa oggi da un drone FPV che ha preso di mira il suo veicolo di evacuazione militare mentre stava svolgendo un'ultima missione nella regione di Kharkiv prima di tornare a casa domani Alessandra Amulkevich 27.3.1989 14.8.2024 35 anni e con questo vi saluto per oggi perché insomma non me la sento di aggiungere altro come sempre un abbraccio alla prossima a Grazie.